Un impianto di depurazione delle acque piovane per un mare più pulito, l'annuncio del sindaco di Barretta Mino Cannito in merito ai lavori previsti per il canale H sulla litorania di ponente Pietro Mennea. Un tratto inquinato, interventi attesi da anni e per i quali giovedì verrà pubblicato il bando di gara. Un risultato storico spiega il primo cittadino. Abbiamo dovuto lottare contro tutti. Abbiamo avuto finalmente l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo che è stato sottoposto a verifica. La verifica è andata a buon fine. La bellissima notizia che vi do è che giovedì sarà bandita la gara per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. I canali abusivi che mettono fogna, acqua nera nel canale non andranno più direttamente a mare ma saranno depurate. La depurazione avverrà all'interno di questo impianto. Non è stata una battaglia facile perché abbiamo dovuto anche fare 56 espropri di terreni, di cittadini privati. Sono davvero contento per la nostra città, per la mia città, che questa soluzione finalmente è stata trovata. Si parlava da 40 anni circa del miglioramento del canale H. In definitiva voglio dire che questo impianto ci consentirà di avere un mare più pulito.